Durante la prima fase della relazione, ovvero durante il love bombing, il narcisista patologico mette in atto una strategia manipolativa chiamata mirroring. In cosa consiste? Il narcisista patologico si pone come uno specchio per la sua vittima, si pone come simile a lei, mostra di avere le sue stesse passioni, i suoi stessi interessi, gli stessi hobby, gli stessi valori, ne imita l'atteggiamento, il comportamento, il linguaggio. In questo modo la vittima sente il narcisista patologico come familiare a lei, ha la sensazione di averlo o di averla sempre conosciuta. Il mirroring è un duplice scopo, quello di fare innamorare perdutamente la vittima e quindi di permettere al narcisista di metterla in trappola, di averla completamente in suo potere. E dall'altro lato invece permette al narcisista, che è comunque un involucro vuoto, che sente sempre profondamente questo senso di vuoto, di riempirsi di ciò che appartiene alla sua vittima, di vedersi con gli occhi, attraverso gli occhi della sua vittima, che in questo momento lo considera o la considera la persona migliore del mondo.